Benvenuti signore e signori a una nuova puntata di CineBytesRadio Il dadatto è morto proprio l'anno delle ripese di quel film E' molto durante la scena E' quella scena, è buona da prima quella Non far incrociare i flussi Ah ma... Army of darkness Sì 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 però il primo si chiama The Evil Dead Eh, mi ricordavo bene, era da casa Come lo vuoi tradurre i bordelli? Il morto cattivo Lo prendo tutto nero? Come i miei uomini E naturalmente con l'arrivo del cinema e con l'arrivo del sonoro Arriva anche il due di luna al cinema Come sei erudito Grazie Improvvisato Mi serve per uscire da questa mozzanghera melvosa Melvosa, mozzanghera Mia casa questa è Vedi l'attore protagonista? Sì dai Steve Buscemi Dai Se non le indovinete, se non le indovinete siete degli scemi Se non le capite E' diventato Lino Banfield Cinebytes Radio Ogni mercoledì a partire dalle 19.30 su Mixlet